Sono state presentate le due mostre degli artisti per il domani, un gruppo di giovani tra i 20 e i 30 anni costituitosi nel 2020 per dare voce alla propria creatività artistica nell'ambito dell'arte contemporanea. La mostra, in transizione, sarà inaugurata domenica 24 settembre alle 18 presso la società operaia in corso Vittorio Emanuele a Pordenone. Qui si affronterà il tema della crescita, analizzato dai ragazzi attraverso le problematiche e i momenti spesso complicati che portano all'età adulta. Invece domenica 1 ottobre alle 18 presso il PAF sarà inaugurata la mostra Vaga Buon Viaggio, nella quale esporranno i giovani fumettisti e illustratori del medesimo collettivo. Questa è la seconda edizione di Artisti per il Domani, che è un gruppo, un collettivo di giovani amanti dell'arte, chi artisti, chi studenti delle varie accademie di Venezia e di Milano. Siamo un gruppo di giovani che cercano di dare visibilità a chi ha meno accessibilità a questo tipo di mostra, a questo tipo di evento. Quest'anno collaboriamo anche con l'istituzione del PAF e grazie a alla benevolenza del Comune, anche quest'anno potremo esporre al Gregoris. Quest'anno al Gregoris avremo nove artisti diversi dall'anno scorso a tranne due e abbiamo deciso di ripetere l'edizione perché abbiamo avuto un gran riscontro e siamo andati bene e abbiamo notato che c'è stato riscontro non soltanto da parte degli adulti ma anche da parte dei più giovani. La Stopperaia è lieta, è orgogliosa anzi di ospitare questi giovani artisti per il domani e che è un punto di partenza per la loro attività, per la loro espressione artistica e quindi noi mettiamo veramente a disposizione gli spazi di questo nostro centro culturale che è molto bello tra l'altro. Quindi il mio augurio è che venga tanto pubblico e che gli artisti troveranno sempre qualcosa, qualche bellissima idea nuova che saremo lieti di ospitare anche il prossimo anno. Il PAF essendo un posto poliedrico fa mostre sia di livello internazionale ma soprattutto essendo gestita dall'associazione Vasta Gamma che ha una storia proprio di valorizzazione dei giovani artisti è doveroso che continui questa attività di promozione. Così come abbiamo iniziato noi tanti anni fa, 23 anni fa con i giovani artisti, anche io ero un giovane artista tra questi, adesso appunto bisogna continuare assolutamente questa tradizione. Queste mostra dei giovani artisti come tante altre iniziative che abbiamo messo in campo per i giovani sono il segno di una città che vuole essere sempre più attenta ai giovani, vuole rinsaldare il matrimonio tra la città stessa e i giovani, tra la cultura e i giovani. E d'altra parte vogliamo anche fare in modo che si rompano certi cliché, cioè quelli dei giovani che non sono attivi, che sono solo davanti al telefonino, che non hanno iniziativa e dall'altra parte rompere il cliché della politica che non li vuole ascoltare. Anche la componente giovanile deve essere una carta che ci dobbiamo giocare, che la città deve giocarsi in vista della candidatura capitale della cultura.